Forza mister! Ci sono affermato perché ho bisogno di voi. È tornato nello stadio e nella città che non ha mai smesso di voler di bene. Contegniamo tutti quanti insieme Mister! Dio! 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 Biondso! Dio! 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 Mister, comed uman easily per salutare questo fruttivo che ha fatto vivere i primi in forza di Borrella del Polo. Bene, valevo di tutto per non deludere la gente, questo è chiaro. Io penso che sappiamo tutti qual è il nostro obiettivo per cui siamo venuti qua, la gente. Abbiamo detto lui, quello che è poco, ma sicuramente ci proveremo. Abbiamo tre gruppi, è stato costruito bene dal direttore, insieme alla società e speriamo di dare soddisfazione a tutti. Grazie, ministro di Ponte all'Uno.